Fino a qualche settimana fa Alfonso Signorini si è divertito a stuzzicare i fan del Grande Fratello Vip divulgando alcuni indizi sui nuovi viponi. Ha pubblicato una borsetta rosa che appartiene a Chadia Rodriguez, un mazzo di chiavi, di Antonino Spinalbese, un gioiello, di Giorgi Tupilan, una pietra preziosa, dell'ereditiera Ginevra Lamborghini, ed anche uno smalto rosso, che inizialmente tutti abbiamo associato a Pamela Prati, ma realtà potrebbe essere di Eleonore Ferruzzi. Il più difficile, nonché l'ultimo a livello cronologico, è stato un pallone da calcio. I social hanno subito ipotizzato potesse appartenere a Diego Armando Maradona Junior, ma il calciatore figlio del Pibede Oro ha categoricamente smentito Di chi era quel pallone da calcio? A rispondere è stato a Tepipol, apparteneva Nicolò Pirlo, figlio del più noto calciatore. Il giovane però, nonostante l'annuncio, non entrerà nella casa più spiata d'Italia. Nicolò Pirlo, figlio maggiore dell'allenatore ed ex campione del mondo Andrea Pirlo, è stato uno dei primi contattati del GFVP. Nicolò però, in questo momento della sua vita, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, vuol concentrarsi sulla moda e sul marchio che ha lanciato. Dopo un breve approccio, ha preferito, almeno per questa edizione, desistere data anche la giovane età. Ma il ragazzo ha un carattere forte e di lui ne sentiremo parlare, fra i non annunciati ma praticamente certi ci sarebbero anche Giovanni Ciacci e Carolina Marconi, mentre sembrerebbe essere saltato l'ingresso di Patrizia De Blanc nonostante lei avesse accettato a delle condizioni. Grazie.